Stefano Pugli, presidente dell'ISAC, ancora una volta ci ritroviamo al palazzetto dello sport. Ormai non è una novità per l'ISAC, anzi è un appuntamento che si rinnova sempre con allegria. È il quinto anno di questa manifestazione preparata dagli operatori e soprattutto da Erika e da Canetti in una maniera fantastica. Quest'anno per di più sono riusciti a coinvolgere, nella giornata ricorda l'autismo, le associazioni da tutte le parti. Stamani c'erano 180 atleti, una manifestazione che ha un livello che cresce anno per anno. Ragazzi che se fanno questi sport, tipo il nuoto, la palla al nuoto, la staffetta del nuoto, non perché vengano buttati in vasca all'ultimo minuto, ma perché si allenano tutto l'anno e perché succeda che si allenano tutto l'anno c'è bisogno di operatori capaci come sono capaci i due operatori dell'ISAC. Io resto tutte le volte sballordito dai risultati che riescono a far ottenere a questi ragazzini. Sono veramente contento e questa manifestazione è la quinta ma sarà la prima di questo livello per tutti gli anni a venire perché veramente voglio che si sviluppi, che si crei sempre più la poca diversità che deve esistere tra i miei ragazzi e il mondo esterno. Vedo che anche il direttore Luca De Felice si è calato nella parte perché l'abbiamo vista al calcetto. Insomma vi state anche divertendo, diciamo la verità. No, principalmente ci stiamo divertendo, questa è proprio la finalità della giornata, quella di divertirsi e quella di passare una giornata come tante altre di serenità e di gioia. Io mi sono cimentato ma ho perso clamorosamente con loro, quindi questa è la dimostrazione che non esiste un'abilità o una disabilità. Esistono delle differenze che si annientano con tanta energia e tanta passione e tanto allenamento. Anche perché questa è la giornata per questi ragazzi di sfogo, di divertimento e ce la mettono tutta con grande passione. Per loro è un po' come essere alle Olimpiadi. Sì, sì, loro sono molto competitivi e si arrabbiano se perdono e giustamente puntano non a partecipare solamente ma a guadagnarsi col sudore la medaglia d'oro che abbiamo già preparato per loro. Assessore Bassallo, palazzetto dello sport, giornata di sport ma uno sport con qualche valore aggiunto, possiamo dire così oggi? Assolutamente, un valore aggiunto importante e da non dimenticare. Una giornata di sport per tutti, la quinta edizione, 180 ragazzi impegnati nelle diverse associazioni, ISAC, ANFAS e tutte quelle che si danno da fare con quei ragazzi nella quale tutti noi dovremmo trovare un punto fondamentale della nostra giornata. Reputarci fortunati, quanto fortunati lo sono loro avere dei bravissimi operatori, dei bravissimi tecnici, dei bravissimi dirigenti e delle persone intorno a loro, con le loro famiglie che riescono a dare vita nella speranza di divertirsi e quindi portarsi e avvicinarsi anche allo sport. Oggi è stata una giornata intensa, mi diceva il Presidente, dal gioco di bocce al calcio, al calcetto, insomma hanno scoperto anche i vari impianti sportivi che abbiamo nella città, che siamo ben onorati e disponibili nell'offrire a queste associazioni. Ritengo che sia doveroso da parte di tutte le amministrazioni, in questo momento si parla dell'amministrazione comunale, quindi porto i saluti anche dall'assessore Volpe ai servizi sociali che ha sicuramente collaborato con me per rendere partecipe questa giornata importante. Credo che sia un atto doveroso e un motivo di riflessione per tutti noi di affrontare la giornata come l'affrontano questi ragazzi, che nonostante le tante difficoltà che vivono, la loro è una peculiarità sicuramente indispensabile per la nostra società che a volte si differenzia e ci dà quel valore aggiunto che sicuramente alle nostre giornate a volte ci manca. L'organizzazione e lo svolgimento della giornata hanno coinvolto tutto il personale dell'ESAC che ha dimostrato ancora una volta una grande passione e alla fine, come sempre, risulta difficile capire chi si sia divertito di più. Valentina Belegreno si è occupata della parte acquatica che non è poco perché hai seguito questi ragazzi per il nuoto nell'ambito anche di un progetto più ampio. Sì, questi ragazzi da un'annetta a questa parte fanno parte di un grosso progetto regionale, hanno creato a Genova una squadra che si chiama la Water Polo Columbus Ability Team e una volta al mese siamo impegnati con gli allenamenti di palanuoto per questa società e loro sono molto contenti, sono molto felici di vivere questa realtà nuova perché comunque è integrazione, provare nuove esperienze, quindi diciamo che ci sono tante cose in gioco. Cose molto positive ma ci vogliono indubbiamente anche tecnici preparati per poterli seguire, è importante quello che fate anche da questo punto di vista. Beh, assolutamente sì, io sono un istruttore di nuoto e gli allenatori che seguono questo progetto grosso a livello regionale sono tutte e due ex giocatori o giocatori di palanuoto, quindi diciamo che ci sono proprio buone preparazioni dietro. È un grande piacere ritrovare qui in perio Francesco Bonanno, ormai è di casa il presidente della Federazione Paralimpica di Calcio Balilla, un grande campione, beh ma qui ce ne sono dei campioni perché vedo che queste sfide sono impegnative, ci danno dentro i ragazzi. Certo, ogni anno poi quando arriviamo loro sono sempre migliori, hanno oramai un'esperienza in merito, non è una cosa nuova, quindi quest'anno ho visto dei grossi miglioramenti anche tra le ragazzine, quindi questo per noi è molto importante. Poi oltretutto, essendo anche campionato regionale, sarebbe bellissimo vedere tutti comunque in ottima attività. Quindi insomma una bella iniziativa, cinque anni che si ripete, ormai c'è questa tradunione con l'ISAC. Sì, ormai, beh, poi l'ISAC come sempre io sono ospite loro e grazie a De Felice e Erika che mi invitano sempre, è una cosa bellissima comunque essere qua nella città d'Imperia proprio per questa iniziativa. Quest'anno è particolarmente riuscita perché c'è anche tanta gente, questo mi fa molto piacere. Vederli contenti così è bello perché meritano anche loro certe situazioni che a volte sono un pochettino, diciamo così difficili da realizzare, però grazie all'ISAC, grazie a Erika che ha organizzato tutto, sta venendo tutto alla perfezione. Oggi abbiamo il calcio, poi abbiamo il nuoto, nel pomeriggio ci sono altre discipline, ma praticamente loro possono fare tutto, anche perché voglio dire, lo sport è per tutti, quindi non c'è nessun tipo di problema. Però la cosa più bella è vederli così contenti e ce ne dovrebbero essere di più di queste manifestazioni perché fanno bene a tutti. Un plauso a l'ISAC, un plauso a chi è organizzato e un plauso anche a chi è venuto perché fa tanto piacere vedere tanta gente. È una giornata che come tutti gli ultimi cinque anni stiamo portando avanti, serve per integrare i nostri ragazzi con i ragazzi bambini più piccoli per far capire quali sono i problemi che possono avere dei ragazzi con disabilità, ma anche fargli capire che sono ragazzi come tutti gli altri, quindi sono integrabili, si può giocare con loro, divertirsi con loro, parlare, cantare, fare quello che si vuole. È una giornata molto importante perché ci porta all'esterno, quindi fa vedere l'ISAC quello che è all'esterno, a tutta la cittadinanza e non solo all'interno del centro dove facciamo riabilitazione, dove facciamo integrazione, dove facciamo un mucchio di attività e questa come tante altre manifestazioni, ad esempio la manifestazione che svolgiamo a luglio, lo spettacolo che facciamo per tutta la città, la festa dei cavalli, la festa di primavera, la giornata dell'orto, ci sono mucchi di giornate in cui l'ISAC si manifesta all'esterno per farsi conoscere, anche se nella città di Impera penso che siamo già abbastanza conosciuti e serve per appunto far integrare i nostri ragazzi con tutti gli altri, con la cittadinanza, col mondo esterno, che è la cosa fondamentale per noi, perché riabilitare va bene, ma riabilitare serve per poi spendersi nel mondo e spendersi nella nostra città. Oggi è una giornata importante per noi ragazzi dell'ISAC, è per quinto anno che si svolge questo evento, siamo molto contenti della riuscita, perché già da stamattina abbiamo visto come i bambini e i nostri ragazzi hanno iniziato con uno spirito veramente, sì, competitivo, ma di divertimento, di gioia, è stato un bel clima e questo è lo spirito che accompagna tutta questa giornata. È stata una bellissima giornata, i numeri poi sono dalla nostra parte e parlano da soli, non mi aspettavo così tanta gente, i ragazzi li ho visti motivati, soddisfatti e carichi e quindi sono veramente contento, sia di avere la giornata e sia di far parte di una famiglia così importante. Sport, competizione, divertimento, festa, senza dimenticare però i veri protagonisti in tutto e per tutto, anche come cronisti. Allora Remo, com'è andata questa giornata? Hai vinto o hai perso? Com'è? Io ho una partita un po' male così, no? Così, no? Così, così, via. Così, no? Non male così. Lui fa così. Calcetto? Calcetto va bene. Hanno rullato, hanno fatto le rullate che non va bene, non bisogna farle. Facciamo una contestazione all'arbitro allora? Beh, è uguale, non dito. Facciamo una contestazione all'arbitro allora? Glielo diciamo? Sì. Facciamo un reclamo? Sì. Però io vado così, no? Così, no? Per fare così, niente. Però fare così non va bene. Glielo diciamo. Capito? Certo. No, no, ma quello, ma quello è il testo duro, non è il testo duro. Il testo duro. Il testo duro. Il testo duro. La giornata mi piace molto anche, appressione la vita, adesso presentiamo la rassi, assaretta, assaretta. Sì, grazie. Ma oggi cosa siamo venuti a fare qua? Cosa stiamo venuti a fare qua? Perché lei fa parte della scuola. Sì, facciamo parte della scuola e siamo venuti a fare il tifo. A chi? Per lei allora, ovviamente. Sicuramente ha anche imparato molto bene, perché comunque è una cosa che si fa, le feste come tutto uguale, no? Sì, certo. Le feste sono sempre belle, giusto? Poi quella dello sport, si nuota, si corre, si gioca a calcio, è vero? No, non si corre. Non si corre? A calcio si corre, sì. Beh, è importante quello che dico lei, no? Sì, è molto importante. Ecco qua, scusi, lei come sta? Come va? Molto bene, è una giornata stupenda, devo dire, di divertimento, siete simpaticissimi, è una giornata importante. E lo so, è un'ottima scuola, fate tanto. È veramente qua, veramente. Ciao! Sì, una manifestazione speciale per dei ragazzi specialissimi. Saluto, ciao a tutti. ciao a tutti ciao a tutti ciao ciao